Ti ho mai raccontato la storia di quel mio cugino che facevo poliziotto? Non ti ho mai raccontato di Lino? No. Vabbè, stiamo a sentire. 15 anni fa, anno più, anno meno, tenevo un cugino che si chiamava Lino, ma tutto quanto chiamavano la tartaruga, e sai perché? Perché non faceva che ripetere 5 è il numero perfetto, 5 è il numero perfetto, tu gli domandavi ma che cazzo significa? E lui ti rispondeva con quell'aria strafottente di chi ti ride sempre in faccia, due gambe, due braccia e che sta faccia, questa è la casa mia, questa è la casa mia, 2 più 2, 4 più 1, 5, hai capito? Struzzo. Ti devo dire con questa che ero indipendente, che non doveva dare conto a nessuno, come la tartaruga. Grazie. Grazie.